Samparini non vedeva mai una partita, chiamava un taxi, per tutta la durata della partita In quel momento aveva qualcosa di diverso dagli altri, quindi era una squadra di altissimo livello Mutuo ha un ottimo ricordo come giocatore Buona ziua e buon găsit la una nuova edizia de top interviuri Intr-adevăr in aceasta zi am un invitat special pentru că are apariții rare la emisiuni I-a antrenat in trecut pe Florenții, pe Veratii, pe Imobile, pe Insinie Acum se descurcă foarte bine cu fotbaliștii Universității Craiova Pentru că alături de mine este antrenorul Universității, domnul David Mangia Bună ziua! Bună ziua, grazie pe-l invitul Mulțumesc că ați acceptat invitația mea, știu că e o perioadă grea cu meciuri multe Și de aceea vă mulțumesc încă o dată Care au fost primele legături cu fotbalul? Prima… ho iniziato come tutti, da piccolissimo, 7-8 ani E ho smesso anche presto, perché a 20 ani ho smesso di allenare, di giocare e ho cominciato a allenare Le prime volte così, anche… non era semplice, perché comunque da dove abitavo io andare a Milano tutti i giorni per gli allenamenti Poi abbiamo fatto… è iniziata così Era microbist, tatăl nostru, microbist Ține fotbal îi place tifoso? Lui… lui… lui a giocato anche lui a calcio a livelli non altissimi Problema è che lui era tifoso della Juventus e io da bimbo ero tifoso dell'Inter E ora? E ora? E ora è Craiova Craiova, toată lumea cu Craiova Frați, sorori? Sì, una sorella più piccola, 7 anni più piccola di me Nipotini Nipotini… Da, legatura serioasă cu fotbal, quando ați făcut prima dată? La nivel de junior… Sì, dico che è stata una fortuna per me Io ho avuto la fortuna di allenare in tutte le categorie Sia giovanili, quindi sia settore giovanile Fino alla primavera E anche… sono partito dalle categorie basse Perché ho allenato in Italia in quella che è Come se fosse qui la quinta divisione La quarta, terza, seconda, Serie A e anche nazionale Come era copilaria in Italia? Noi știm cum era in România Toți mergeam să jucăm fotbal Acum sunt calculatoare, altceva… Vă întreb, perché suntem apropiati de vârstă La stessa identica cosa Noi passavamo tutte le giornate O a un campo da calcio vero O a un parchetto Si metteva giù due pali Due borse per fare i pali E giocavamo a calcio Da dopo scuola fino a sera Adesso invece giocano a calcio con FIFA Făceați paralel și scuola și fotbal? Sì Mergiați? Sì, all'inizio, quando sei giovane, sì Poi io, quando ho cominciato a allenare Inizialmente studiavo, facevo l'università Però la mia passione era provare a allenare E quando ho capito che le due cose La mia giovineză è stata bella Chiaro Secondo me C'era molto più legame Molto più… con i ragazzi Perché, ripeto Il mio miglior amico era una persona Non era il mio computer Da Pentru că noi vedeam portocalele și banalele Doar de Crăciun și de Paște De ce vă întreb Ma infatti Bisogna sempre ringraziare quando si ha la fortuna Perché alla fine è fortuna Di nascere o di vivere in una In una realtà più… più facile Hai continuato con il fotbal? Portare, no? Da L'ha început portare? Perché mio papà Mio papà faceva portiere Ha giocato fino alla terza serie Diciamo E quando ho iniziato lui mi ha detto Gioca calcio, fai tutti i ruoli che vuoi Ma non fare portiere E io… ho fatto un portiere La fel cum i el tinea cu Juventus cu Inter Hăs făcut împotriva Esatto Era bine că alergat mai puțin, nu? Că portare Sì, era più facile Quando ero ragazzino io C'erano anche delle regole diverse Quindi secondo me era più facile fare portiere Rispetto a adesso Adesso devi essere bravo Bravo a giocare coi piedi Devi fare più cose La ce vârstă hai început fotbalul organizat? Adică Turnee Mecuri între echipe No, no, in Italia In Italia fin da piccolini Da 7-8 anni Incominciano i piccoli campionati Sono organizzati a livello locale Però poi si gioca subito Ed è un po' un problema Con cui poi mi sono anche imbattuto Quando ho fatto l'allenatore Dove quando nei ragazzini di 7-8 anni Fai partite, fai classifiche Risultati e classifiche Poi incominciano i problemi I genitori vogliono vincere le partite Invece Invece Secondo me Nei ragazzini Prima cosa I ragazzini si devono divertire A giocare a calcio Prima cosa E poi Cominciare a fare le cose un po' più A pensare molto più al singolo giocatore A far crescere il singolo giocatore Piuttosto che Che legarsi al risultato Si erano ambitiati Rivalità Veneau parinti La matchuri Si E' normale che vengano i familiari A vedere le partite Però quando poi i familiari sono troppo Adosso al bimbo Al bambini Secondo me ragazzini perdono anche un po' la voglia di giocare Si cand ați ajuns la junior Cum a fost? La cat ați ajuns? Com'è in Italia? La paespecini spani? Juniori? Deja? Si 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 Le categorie Sono come La stessa identica cosa La stessa identica cosa E' chiaro Poi quando arrivi magari all'under 15 Under 17 Ci sta anche che magari il risultato Però secondo me Il risultato alla fine Come anche qui A livello di Under 19 Di Deve essere secondario Rispetto a lavorare sul singolo giocatore Bisogna lavorare sui giocatori Loro sono i protagonisti Loro devono crescere Devono Conoscere il calcio Si 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 Un po' Rispetto a cui Era un po' diverso Perché Di solito Quando eri più piccolo giocavi sabato pomeriggio Sempre Un po' più grande giocavi domenica mattina La 18 Anchei Junioratus Si Poi A livello di Quinta Quinta Serie Quinta Italiana Poi un giorno Il direttore sportivo Mi ha chiesto Se mi poteva interessare Cominciare a allenare i bimbi I piccolini Ho detto sì Ho fatto per un anno Giocavo e allenavo E poi ho detto A me piace fare le cose bene Non riuscivo a farle come volevo io Allora ho smesso di giocare Ho cominciato A allenare Non eravamo amici per portare? No A quei tempi Per il livello che giocavo io andava bene La 20 anni Stop football Studi no? Direttore Si Si Che ho fatto per Per qualche anno Poi però non ho finito Non ho finito la facoltà Perché vedevo che io Perdevo Perdevo A me piaceva di più Per Usavo tanto tempo Impiegavo tanto tempo Per allenare E meno per studiare Quindi Voglio provare a fare allenatore E ho avuto Ho avuto la fortuna di Di arrivarci Era passione a preamare Non per il football Ma anche quando Pensa che quando anche ero ragazzino Under 15 No under 15 un po' meno Under 17 A me piaceva parlare con l'allenatore Di Come Come impostava la partita Di Quindi ero 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 già mentalmente Predisposto Per fare L'allenatore Incredibile Da C'è antrenori Voi Iniziato a allenare i grandi È diventato un punto di riferimento Perché secondo me Non bisogna mai fare l'errore Di provare a copiare un allenatore di prima squadra nel settore giovanile La prima squadra è una cosa Il settore giovanile è un'altra cosa La prima squadra è importante il risultato È normale Nel settore giovanile secondo me è importante il giocatore Bisogna lavorare sul singolo giocatore Su farlo crescere Da Cand erasi mici Ce fotbalisti v-au plăcut? Ce fotbalisti aveați idol? Portari Sau? Alte posse Da ragazzino ero tifoso nell'Inter giocava Zenga nell'Inter Quindi Walter era Era uno dei migliori Anzi È stato forse nel suo periodo il migliore Zenga era uno dei tre idoli Sì Zenga Ma c'era Quegli anni i portieri migliori in Italia erano Zenga Tacconi Galli Tancredi Questi erano i migliori in Italia I giocatori Quegli anni Come anche adesso La squadra Che vinceva di più era la Juventus Quegli anni c'era Platini Che era un giocatore di altissimi E Maradona Vinceva Vinceva Ok, a vinto anche il Napoli Però Quegli anni vinceva Come adesso Vinceva un po' di più la Juventus Sunteți nascuti 74 Care è primul torneo final De care vă aduceți aminte? Pe care l'ați văzut? Mondiale? Mondiale, european 82 Deja aveați 8 anni Sì, sì 82 mi ricordo Mi ricordo Ero Ero in vacanza Al mare Tutte le sere Davanti alla televisione A vedere le partite della nazionale E după aceea? Care a fost așa? Italia 90 V-a rămas in Sì, perché l'abbiamo organizzato Cioè, è stato organizzato in Italia Che è stato un po' Dopo Dopo l'82 Che avevamo vinto L'86 Avevamo fatto in Messico Un mondiale Non buonissimo Eramo usciti con la Francia E poi in Italia Quando è stata organizzata l'Italia C'era l'entusiasmo Perché Si giocava in Italia Si pensava che l'Italia Potesse anche vincere il mondiale Siamo andati vicini E Poi è stato Dopo Pensando al Fare l'allenatore come lavoro Purtroppo in Italia È stato anche l'ultimo momento In cui si è pensato a Lavorare su una cosa molto importante Che sono le strutture Perché gli stadi in Italia Sono stati fatti per il mondiale del 90 E poi poco altro Poi è stato rinnovato l'Olimpico San Siro E poco altro Mi ricordo qualcosa Ero È chiaro che noi Cioè In quel momento eravamo proprio Italia 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 Perché C'erano grandi aspettative Si pensava di avere una squadra Che poteva anche Vincere Poi invece Aminti tedeschi Ha fostuto un match România-Argentina Atunce Hagi contro Maradona Chiaro che Per noi Per me Come appassionato È stata la prima volta in cui Abbiamo conosciuto un po' La Romania Come nazionale Come cultura calcistica E lì ho capito che C'erano molte affinità Tra Italia e Romania Perché alla fine Popoli latini insomma Anche come Come idea di calcio Come talento Come qualità di giocatori Eram mici Eram mici Eram mici Quarta Vinto Poi abbiamo fatto il terzo anno In terza serie Che siamo salvati E poi ho fatto altre Altre esperienze Se non era greu Eram condizi La Liga Cincia Amatori Amatori No 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 In Italia Avarese 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 In quinta serie In quinta serie Facevano I calciatori Avarese In altre squadre Che abbiamo incontrato Grazie E. Con unaė Avarese Avarese Il gure Avarese Se non hai incontro Avarese Avarese Servici 기 Hertz Badini Trocken Tanti anni Avarese Poi è arrivato un momento C Abbiamo un ottimo rapporto Con la squadra Con il club Però è arrivato un momento Un po' Di Di staccarsi e andare a fare altre esperienze. Sono state altre esperienze importanti. Poi dopo sono tornato a Varese con la primavera. In queste 4 clubi avete lavorato con fotbalisti tineri? Voi piaccia di lavorare con fotbalisti tineri? Si, perché in quarta serie in Italia era obbligatorio far giocare quell'anno 4 juniori nei primi 11. Quindi la squadra aveva tanti giocatori senior ma anche 8, 10, 12 giocatori giovani. Poi l'esperienza più bella è stata dopo Valenzana quando sono tornato a Varese. La primavera. Abbiamo fatto una cosa incredibile. Pensa che il Varese quell'anno tornava in serie B dopo 25 anni che non faceva più la serie B. Abbiamo costruito l'Under 21 in pochissimo tempo e quell'anno abbiamo fatto la semifinale del torneo di Viareggio e la finale del titolo italiano. Perso contro la Roma. Abbiamo battuto Juventus, Inter, Milan e abbiamo perso la finale con la Roma. Buon, buon rezultato. In 2011 ați ajuns la Palermo, nu? Si. Si, 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 si. A Palermo io vado dopo Varese per allenare la primavera e dopo un mese, conoscete bene Zamparini, è arrivato anche qua Zamparini. Dopo un mese hanno deciso di cambiare l'allenatore la prima squadra e hanno messo, hanno deciso di mettere me a allenare la prima squadra. Da, la Palermo in 2011. Esatto. Ați fost in te la tineret, ce spunea, și după aceea între august și decembrie. Si. Cum a fost in serie A? Ah, beh, bello. Bello perché, sai, io arrivavo dal settore giovanile. Io l'ho vista come un'opportunità. Sinceramente non pensavo di avere in quel momento quell'opportunità. Mi hanno dato la squadra in serie A. La prima partita, esordio in serie A, Palermo-Inter, contro la squadra per cui avevo tifato fino a un mese prima. E abbiamo iniziato bene perché abbiamo vinto con l'Inter, 4 a 3, la prima giornata di campionato. E poi siamo andati avanti abbastanza bene, considerando che era il Palermo che aveva venduto l'anno prima tutti i giocatori Sirigu, Nocerino, Pastore, Cavani, erano stati tutti ceduti. Stavamo facendo bene, però poi a Palermo, diciamo che non è facile. Da cei giocatori mai erau mai al Palermo? Quando ho allenato io c'erano Miccoli, Ilicic, Piniglia, Abel Hernández che secondo me era era giovane in quegli anni, aveva vent'anni, era uno dei più grandi talenti che erano arrivati a giocare in Italia, però per vari motivi secondo me non ha espresso tutte le sue potenzialità. L'unica che non ho giocato è il Napoli, abbiamo giocato con l'Inter, Juve, Milan, Roma, Lazio. Sì, abbiamo vinto con l'Inter, pareggiato con la Lazio, abbiamo perso 1 a 0 con la Roma e invece con il Milan e Juventus abbiamo perso, mi ricordo, 3 a 0, ma era il Milan di Ibrahimovic, una squadra incredibile ed era il primo anno di Conte alla Juventus quando poi a vinto lo appropo di Conte, qu'antrenori mari hai avuto in questo periodo? Qu'antrenori mari erano in quelle altre squadre? Conte alla Juventus? Conte alla Juventus? In Inter, chi era? Gasperini all'Inter, al Lazio c'era Reia, al Milan c'era Allegri, al Roma c'era Luiz Enrique. Luiz Enrique, ops. Sunteti al doilea cel mai tânăr antrenor di Serie A dupo Montella? Sì, quindi penso per 12 giorni di differenza di età. Sì, sì, sì. È stata una cosa inaspettata, ma poi la cosa bella è stata che pur essendo un allenatore giovane, è importante quando un allenatore sente di avere il rispetto di giocatori anche come come Miccoli, Balzaretti, giocatori che avevano un'esperienza importante. Quando v'ha nomita un trenore, non v'ha fost tema? No, era più preoccupato di me, perché a me mi ha scelto Zamparini, ma su suggerimento del direttore sportivo. Infatti poi dopo un po' di mesi, quando abbiamo parlato di questa cosa, il direttore sportivo mi ricordo, mi aveva detto, ma quando ti ho detto che diventavi allenatore della prima squadra, ero più preoccupato io di te. Mi ha detto, ma sì, perché io l'ho vista come un'opportunità. quindi nella sua mentalità ha dato anche questa possibilità. Il problema era che lui era molto una persona istintiva. Mi ricordo che noi avevamo fatto Palermo, squadra nuova, avevamo fatto prime cinque partite, dieci punti. Alla sesta partita andiamo a giocare a Milano con il Milan. Mi ricordo i tre attaccanti del Milan erano Ibrahimovic, Robinho e Cassano. E perdiamo 3 a 0. A fine partita, non con me, ha chiamato subito le tv, ha fatto interviste, ha distrutto tutto. Chi si è stato il entrenatore? Chi si è stato il entrenatore in mezzo? Prima di me ci è stato Pioli. Pioli, ci l'ha dato presto, in augusti. Un mese. Un mese. E eratti alla tinerettura? Io ero, sì, allenavo, la... Venea in vestiari, cercati giocatori, venea la entrenamenti, no. Zamparini? No. Non vedeva mai una partita, non veniva mai allo stadio a vedere le partite. quando anche arrivava a Palermo questa è una cosa curiosa quando arrivava a Palermo stava allo stadio fino a 5 minuti all'inizio della partita poi chiamava un taxi per tutta la durata della partita girava in città in macchina o col taxi o col suo autista personale finita la partita ritornava non vedeva mai la partita allo stadio poi la registrava la vedeva registrata e poi il problema è che lui faceva un po' parlava dopo la partita guardando il risultato poi senza averla vista poi dopo guardava la partita e magari cambiava un po' opinione sembra che Gigi Beccali potete lasciare? no beh io penso che ogni persona è diversa dall'altra io posso parlare di Zamparini perché l'ho conosciuto signor Beccali non posso parlare perché non lo conosco direttamente ogni match che spune despre i giocatori in senso questo su questa cosa qui c'erano delle similitudini però non ho conoscenza diretta la verità è questa perché secondo me un allenatore deve lavorare sette giorni alla settimana per fare un lavoro come si deve così deve essere e ora ora facciamo la storia la storia di Italia a Under 21, dopo Palermo, la più bella poveste, fino ad arrivare a Craiova, un anno. Come è venuto? Come è venuto? Hai venuto dopo quello? Dopo quello che hai terminato con Palermo? Hai sentito? Si, si, si. Ho avuto un po' in Europa. Ho avuto vedere un po' di squadre. Sono stato ad Amsterdam a vedere Ajax una settimana. Dopo sono andato anche a Monaco di Baviera a vedere Guardiola, l'anno dopo. Sono stato un po' in giro perché secondo me un allenatore deve, quando ha la possibilità di conoscere anche il modo di lavorare di altri allenatori, è importante che lo faccia. Poi dopo, secondo me, ogni allenatore deve ragionare e rielaborare tutto con la sua testa e prendere spunti. Quando erati stanchi, hai fatto Coverciano? Si. Si. Con l'Echipa di Under 21. Come è venuto? Come? Cine v'a cercato? V'a surprins? A fost... Povestea. L'Under 21, in Italia, è considerata una nazionale... Non è considerata molto una nazionale giovanile, è considerata... Una nazionale importante. Una nazionale importante. Una nazionale importante. E io, sinceramente, a me mi ha scelto Sacchi per quel ruolo. All'inizio c'era tantissima diffidenza perché gli allenatori dell'Under 21, prima di me, erano tutti stati ex giocatori e ex giocatori della nazionale. Casiraghi, Gentile, Maldini, Ferrara prima di me, Cesare Maldini, prima ancora. E quindi all'inizio c'era molta diffidenza. Perché comunque era la prima volta che veniva messo all'Under 21 un non ex giocatore e uno che non aveva mai giocato, oltretutto, nella nazionale italiana. E sicuramente ancora adesso è il più giovane allenatore che era stato messo all'Under 21. Si Saki ha vrut, non? Si, si, si. Si ha assumato un rischio. Si, esatto. E io di questo io con lui ci eravamo conosciuti l'anno di Varese, della primavera col Varese. E lui si ha assunto questo rischio e io lo dovrò ringraziare per tutta la vita perché mi ha dato una grande opportunità. Poi, fortunatamente, i risultati mi hanno e gli hanno dato ragione. Iulio 2012 e iulio 2013, no? Si. L'equipa era calificata? No, mancava... Aspettate preliminari? Si, si. Mancava prima perché il regolamento era diverso da quello attuale. Da. Mancava le ultime due partite del girone che abbiamo... Mancavano tre punti che abbiamo preso con Lichtenstein. Gli ultimi tre punti. Gli ultimi tre punti con Lichtenstein. La mia prima partita in nazionale è stata un amichevole. Olanda-Italia. Per la prima volta nella storia l'Italia aveva vinto in Olanda con una nazionale giovanile. Abbiamo vinto 3-0 in Olanda. In amichevole. Amichevole. Poi abbiamo fatto lo spareggio per andare agli europei alla fase finale. Lo spareggio con la Svezia. Come è successo nell'ultimo mondiale alla nazionale A. Abbiamo vinto con la Svezia 1-0 a Pescara in Italia. Abbiamo vinto 3-2 in Svezia. E siamo arrivati alla fase finale in Israele. Ciro Ferrara, di ce a plecat? A fost dato affare? No, no, no. A preferito andare a allenare la Sampdoria. A avuto l'opportunità di andare a allenare la una scuola Serie A. A preferito andare la Sampdoria e a lasciato la nazionale. E la nazionale A. Mare era Prandelli? Si, Cesare. Era Prandelli. Che sistema giocai? 4-4-2. E che sistema vi piace? Che sistema preferati? Depende da l'equipa, da i giocatori. Si, sicuramente. All'inizio della mia carriera, perché ero molto associato a Sacchi, Sacchi era considerato il maestro del 4-4-2, tutti dicevano che io potevo solo giocare 4-4-2. Infatti la cosa divertente è stata l'anno scorso qua, quando io ho giocato 3-4-3. E tutti dicevano, ma perché giochi con 3 invece che con 4? Ma per me era la prima volta. L'ho fatto perché secondo me era la cosa più giusta per le caratteristiche dei giocatori che avevamo a disposizione. Un antrenor tânăr che non giocase in Nazionale d'Italia, come ha gestionato la relazione con i giocatori che già giocavano in Serie A, anche con i giocatori anche con i giocatori. E come mi ricordi anche in l'inizio dell'intervio, hai avuto Florenti, Immobile, Verati e Insigne, che ora sono in Napoli, Roma, Lazio e Paris Saint Germain. E mai adăugăm? No, erano già. No, Insigne era già a Napoli, Verati era a Paris Saint Germain, Florenzia era a Roma e Immobile era a Genoa. Da, da. E aici mai adăugăm, mai erau Gabbiadini, nu? Sì, Gabbiadini, Borini, Sansone, Saponara, Donati, care è chi gioca la Southampton, la Sunderland, la cluburi in... Per loro è stato molto importante quello europeo, perché hanno potuto mettersi in evidenza. All'inizio io ho cercato di instaurare un rapporto di rispetto. Gli ho detto come la pensavo, ho messo poche regole che secondo me andavano rispettate per la nazionale, perché quando un giocatore deve avere un comportamento di un certo tipo quando gioca nel suo club, ma quando sei nazionale, se è possibile, devi averne ancora di più di rispetto perché rappresenti un paese intero. Dintre cei patru, așa, care au ajuns mare, care era mai năsdrăvan, așa, care... Mai... ...sau mai diferit, să spunem. Tutti dicevano che il mio preferito era Insigne. L'as preferat per Insigne. Insigne aveva... In quel momento aveva qualcosa di diverso dagli altri. Secondo me come qualità, però... poi dopo va considerato il ruolo e... ad esempio Immobile è stato... in quell'anno, in Under 21, è stato il centravanti di quella squadra dal primo giorno che sono arrivati in Under 21 fino alla finale, compresa la finale in Israele. perché per me era il prototipo migliore come... come centravanti. Avevano anche a Craiova un piccolo Insigne, un piccolo Insigne, non? Poi Mitrița... Măcar așa, ca fisica, unele calități... Non, non, ma... Lo ricorda. Lo ricorda. In tanti aspetti. In tanti aspetti. Da punto di vista tecnico, anche da punto di vista caratteriale, ci hanno molte cose in comune. M'am uitat pei risultate della torneo final și pei loturi le echipe lor. Cum a fost torneo final? Difficile, perché quando la formula era diversa da quella attuale, eravamo solo otto squadre. Noi avevamo, mi ricordo nel girone, Inghilterra, Israele, che era la squadra organizzatrice, e la Norvegia. La prima partita con l'Inghilterra. E quindi era importante fare risultato, però era importante non perdere la prima partita. E abbiamo vinto 1-0 su gol di Insigne. Cine era l'antrenor la inglese? Era Southgate? No, era Peirce. Avevano giocatori care au ajuns mare? Avevano una buona squadra. Avevano una buona squadra. Non avevano in quell'europeo le individualità che ad esempio avevano Olanda e Spagna. Ați dimerit in semifinale cu Olanda. Aveva o echipă cu nume. I-am regăsit ieri, ne-am adus aminte de el. Deci, Martin Sindin, Fundaș, Blind. De Vrij. De Vrij. Strootman. Strootman, Wijnaldum. Vinaldum. De Pai. De Pai. Era grandissima squadra. Era molto... Pensa che quella partita era giocata a Junio. Da. Nel febbraio precedente. Da. C'era stata un amichevole nazionale A italiana contro nazionale A olandese. Otto undicesimi della nazionale A olandese. Era uscì. Poi erano a giugno nell'europeo... nell'europeo under 21. 1-0, no? Un semifinale. 1-0. Gol di Borini. Gol di Borini, da. Finale cu Spagna. Si. E lì è stata dura. Una squadra. Una squadra. Una squadra. Una squadra. Che formula aveva Spagna? Hai scoperto. La Spagna giocava con... Me la ricordo la formazione perché... Mi ricordo la mia formazione ma anche quella della Spagna. La Spagna giocava a Deghea in Porta. I quattro difensori erano Montoya, Bartra, Inigo Martinez e Alberto Moreno. Due centrocampisti, Coche e Iaramendi. Tre giocatori dietro la punta erano Teio o a volte giocava a De Lofeu. Tiago Alcantara, Isco e Morata. Morata o Rodrigo? E quindi era una squadra di altissimo livello. Mi ricordo che prima della finale avevamo fatto quell'anno il conto delle presenze nella stagione appena finita in Champions League. No. Noi avevamo tre presenze con... solo tre presenze con Verratti. Loro avevano 82 presenze già. Come con questi giocatori. 4-2. 3 golori Alcantara, 1-1 Isco. Immobile e Borini. 1-0, 1-1. No, greu. Avete avuto chance? No, abbiamo avuto perché 1-0 siamo partiti un po' di paura. 1-0, 1-1 Immobile. Occasione per noi con Florenzi. Ha fatto una gran parata ad Egea. Un minuto dopo 2-1 per loro. Poi due rigori per loro che però... L'obiettivo era riuscire? No, l'obiettivo era riuscire... Perché sapevamo il valore delle altre squadre. Inghilterra, Germania, Olanda e Spagna sicuramente avevano qualcosa in più. Anche come esperienza con tanti giocatori già che avevano giocato in Serie A o in qualche Coppa Europea. L'obiettivo era arrivare in semifinale. Spagna con chi ha giocato in semifinale? Con Norvegia. Con Norvegia. Con Norvegia. L'Inghilterra è uscita dopo che ha perso la prima partita con noi. Ha fatto due pareggi ed è uscita. E il contratto con la Federazione a fost solo per un anno? De ce l'ha inchiat? Perché mi mancava un po' l'allenare tutti i giorni. Io ho fatto un anno, la Federazione mi aveva offerto il rinnovo per altri due anni. A posteriori non so se poteva essere forse una scelta migliore continuare o cambiare. Non si può dire. Ormai non si può. Questa è stata la scelta. E sono tornato a allenare in scuola di club. Trei cluburi di Serie B. Spezia, Bari e Ascoli. Hai mai avuto con i Romani? Si. Stojan. E' un piccolo periodo pieno a Bari. E mi trea a Ascoli. Com'è Stojan? E' convocato anche alla nazionale. Diversi rispetto ad adesso. Era ancora un po' diverso. Noi giocavamo quattro o tre. Lui giocava esterno a sinistra. In quei tempi giocava esterno. L'avevamo preso in prestito dal Chievo. Però è sempre stato un giocatore, secondo me, di qualità. In Italia, secondo me, poteva anche avere qualche opportunità in più. Am uitato a vă întreb ceva. La Spania era l'Opeteghian trenor, no? Si. Care, intre timp, a ajuns si la echipa nazionala mare. Porto, prima. Porto. Equipa nazionale. Prima nazionale.. Ed era Radio Madri. Adesso Real Madrid. Ormai Strasseu? Na' zonale. Perioida delle equipele in Serie B, come li hai caratterizzati? C'è stato un anno, qualche lunedì? Tante persone con più esperienza di me mi hanno detto poi sei andato a lavorare in un campionato che non va bene per le tue caratteristiche perché tu vuoi che le squadre giochino, che mantengono possesso, che giocano palla a terra e in Italia in Serie B è molto, molto difficile perché poi, come in tutto il mondo, ti danno poco tempo. Sbagli due o tre partite... Dupo aceea ieri hai dato una pausa, no? Sì. In 2016 fino al 2017. C'è stato quando l'offerta di Craiove? Ero a casa perché dovevo anche sistemare delle cose mie un po' di salute. è capitata l'opportunità, tramite un amico, di venire a vedere una parte dei play-off della stagione precedente che mi ha detto guarda vai a vedere un po' come è il calcio anche in Romania perché secondo me è giusto che ti fai anche un'idea di come è il calcio all'estero. Io come mentalità volevo fare un'esperienza fuori dall'Italia perché capivo soprattutto in quella categoria in Serie B che facevo fatica a esprimere la mia idea per motivi che ti ho detto prima e volevo andare a fare un'esperienza all'estero. Quella è capitata... Sono venuto qui, ho visto delle partite. Ho fatto un incontro con il proprietario del... Il proprietario era italiano? Sì. Ho fatto partite... Hai vissuto un match al Craiove, no? Ho visto, il primo match che ho visto del Craiove è stata Craiova-Dinamo in Coppa di Romania. Ho vinto Craiova ai Rigori. Poi ho visto Craiova-Vitorul, mi ricordo, 0-1. E poi ho avuto questo incontro con il club e c'è stata la possibilità di venire a lavorare qui e, secondo me, una volta che mi sono reso conto delle persone, delle qualità comunque, delle possibilità di poter lavorare con qualità, ho detto voglio fare questa esperienza. V-a luat molti, se vò hotarati? Entr'o lunà v-ați decis? No, no, ho deciso in pochissimo tempo. In pochissimo tempo. Sono stato qui una settimana, sono tornato in Italia, abbiamo cominciato a parlare, a parlare e poi c'è stata la... nel giro di quindici giorni, ho accettato. Sono tornato. La seconda volta che sono tornato abbiamo iniziato a fare i programmi per la stagione successiva. V-ați interessate Craiova? Ha svorbito con un fost entrenatore italiano che ha entrenato aici a Zenga, Bergodi, Mandorlini? Guarda, no, ti dico la verità. Io, ovunque ho allenato, col massimo rispetto per tutte le persone che avevano lavorato prima, non ho mai voluto chiedere un parere perché non volevo farmi influenzare, volevo farmi un'idea mia da zero. Chiaro che ho dei giocatori che ti ho fatto il nome prima vivono a Craiova e quindi è stato più facile anche avere le informazioni poi della città. Vi ha piaciuto l'atmosfera dall'inizio? Sì, è chiaro che quando la prima volta che sono arrivato delle persone mi hanno detto guarda che Craiova è come Napoli. E ho detto ok, vuol dire che c'è passione per il calcio. E così è. C'è tanta passione, l'abbiamo vista l'anno scorso quando abbiamo vinto la Coppa. Hai mai simpatizzato con vreo l'equipo d'Italia? Io sinceramente adesso, a livello di tempo, seguo molto il campionato rumeno, il campionato italiano, proprio qualcosa, ma non con l'attenzione che secondo me un allenatore deve mettere sul suo di lavoro. Sicuramente con la squadra azura, perché in ultima volta gioca i titolari tutti i quattro di cui mi ricordiamo dell'Under 21. Florenzi, Immobile, Insignei e Verratti. Gioca costante in primo luogo. Secondo me questo è un obiettivo, oltre al risultato sportivo di essere vice campione d'Europa, secondo me un allenatore dell'Under 21, uno dei risultati importanti è quello di riuscire a portare in prima squadra il maggior numero di giocatori. Secondo me deve essere anche l'obiettivo di chi allena l'Under 19, come qua in Romania l'Under 19 l'Equipa Doha, secondo me l'obiettivo principale deve essere quello di far arrivare giocatori nella prima squadra. perché al centro di tutto ci deve essere il giocatore. Stai bene anche la Craiova. Banco, Mitriza, poi ci siamo contenti perché rispetto a quando abbiamo iniziato c'era Baluzza, il nazionale già, che ha continuato a essere... Alex Baluzza. Alex Baluzza è rimasto fino all'anno scorso, era sempre comunque convocato. E poi c'è stata la convocazione di Mitriza, di Banco, adesso Cicaldau, tre ragazzi in Under 19, secondo me ragazzi giovani ma di buone prospettive. Come a fost quando abbiamo scostato il trofeo con Craiova? Il primo trofeo di cui abbiamo entrato? Sì, perché avevo vinto i campionati, come avevo detto, nelle serie minori italiane. Avevo perso due finali, quella con il Varese e quella in Israele con la Spagna. Era il momento di riuscire a vincerne una. È stata una grande soddisfazione anche perché abbiamo riportato un trofeo in una città dopo 25 anni. E questa è una cosa importante. Infatti poi diciamo che la festa a Craiova è stata importante. Lumea è fierbente acolo, va impressionare qualcosa in modo osebitato dopo che hai scostato la Coppa? Sì, perché la Craiova funziona così. Hai vinto la Coppa oggi, stasera e domani mattina, adesso bisogna vincere il campionato. Però è normale, è una cosa che fa parte un po' del calcio. Abbiamo ascoltato che anche nella conferenza di presa vi ho spiegato i ziaristi dopo una vittoria. Gata, l'ho un campionato? È un po'... funziona così. Chiaro che io, a me ogni tanto mi dicono, ma parli sempre di equilibrio. Ma secondo me, per il nostro lavoro noi dobbiamo avere equilibrio. Poi, è normale che i tifosi vogliono vincere qualcosa di importante. L'importante è che noi, che siamo addetti alla voi, che siamo sul campo, dobbiamo avere equilibrio nei momenti positivi e anche nei momenti magari un po' meno positivi. Ma, sinceramente, in mente, voi pensate anche al titolo? Io, come, anche qui, la mia risposta è sempre la stessa, ma non è una risposta per non parlare del titolo. È una risposta che è legata alla mia mentalità e alla mentalità che voglio che abbia la mia squadra. Non possiamo perdere energie. L'energia deve essere sulla prima partita che arriva e non pensare altre cose. Poi arriverà, io spero che arrivi in questo momento, però se arriverà, arriverà ad aprilio, a maggio. Atunci se vede nebunie in Oltenia, che non si mai aducà aminte di quando hanno mai castigato campionato. Si, si. Cando ați venit in Oltenia in Craiova prima data, impactul, cum a fost, non stiu? Ceva, v-a surprins ceva? Cum a fost? In vestiar, la cantonament, in stadion, in oraș? No, sono arrivato mentalmente, perché è una cosa che dico spesso in Italia. In Italia tante volte siamo prevenuti sugli altri paesi, come la Romania. Ed è un gravissimo errore. Io ho detto, non dovete parlare di un paese senza averlo mai conosciuto. Prima venite, anche io ogni tanto parlo con i miei conoscenti, venite, vedete e dopo possiamo parlarne. E io ho fatto così. Stadio no, perché per la prima parte della stagione non giocavamo a Craiova. Lo stadio era bellissimo, però non era ancora completato, non potevamo usarlo. No, però la città mi è piaciuta, subito. Una città non caotica, una città bella. La relazione è buona, molto buona. Abbiamo un rapport chiaro. Parliamo, perché per me è normale che il proprietario di un club in cui mette soldi vuole sapere cosa succede dentro nella sua azienda. Perché alla fine la scuola di calcio è una azienda. È normale che voglia conoscere come stanno i giocatori, come stanno i giocatori, come è la situazione. È normale. Però c'è un grandissimo rispetto dei ruoli, poi. Prima data, quando ați fost in Romania, a fost atunci la Craiova, se vedeți Craiova, Dinamo? Sì, a Severin, perché giocava a Severin la partita di Coppa. Prima legatura. Sì. Dar ce știați despre România? Sau despre fotbalul românesc? Non sapevo molto. È stato un motivo per cui ho deciso di venire a vedere. In quella settimana ho visto quattro o cinque partite di play-off. Sono stato a Craiova, sono stato a Pitesti perché poi Craiova ha giocato a Pitesti. Sono stato a Bucarest, a Giurgiu, a vedere delle partite perché secondo me dovevo, se poi la mia idea era quella di venire a lavorare in Romania, dovevo prendere più informazioni possibili. Bene, sono convins che știați cinci mari fotbalisti romani. O să vă întreb despre fiecare in parte, se mi caratterizzati. Prima è Hagi. Auzisez del buonese, non? Hagi il calcio. Hagi il calcio. Adesso, secondo me, lui sta facendo, lui sta facendo, ha fatto e sta facendo un lavoro fondamentale per il calcio rumeno. Perché quando parlo dei giovani, e qualcuno mi chiede dei giovani rumeni, li volete prendere? Ma sia per le squadre rumene, perché se guardate, alla fine Steaua, Craiova, abbiamo tanti giocatori che sono cresciuti nell'Accademia di Hagi. I migliori giovani arrivano da lì. E questo vuol dire che lui ha fatto un grande lavoro per il suo club, ma ha fatto un grande lavoro per il calcio, per il calcio rumeno. Molto spune che i risultati della nazionale sono stati datori di Hagi. Ma io posso parlare per quello che ho visto e che ho vissuto io in questo anno e mezzo. Se io devo parlare dei giovani più bravi, io sono contento anche di due o tre ragazzi giovani che sono, come ne parlavamo prima, che sono a Craiova, però a livello di giocatori già pronti per un certo tipo di calcio, già con delle conoscenze calcistiche di un certo livello, arrivano dall'Accademia di Hagi. Muto. Muto ho un ottimo ricordo come giocatore, quando lo vedevo è un pessimo ricordo quando allenavo in Serie A, perché le mie prime sei partite in casa a Palermo sono state sei vittorie. La settima partita è stata Palermo-Cesena, 0 a 1, gol di testa di Muto su calcio d'angolo. Però ha un altro grandissimo talento. Lui secondo me è un altro giocatore che è stato di un altissimo livello. Kivu? Kivu è giocatore, giocava nella mia squadra del cuore, o anche nella mia squadra del cuore, perché prima ha giocato a Roma. Però a Milano ha fatto qualcosa di, insieme ai suoi compagni, ha fatto qualcosa di incredibile, perché l'Inter non era abituata tantissimo a vincere in Italia. In Italia di solito, alla Juventus è la squadra che vince. Quando loro hanno fatto quell'anno il triplete è stata una cosa incredibile. Radu? Radu è un altro giocatore che ho giocato contro quell'anno che ho fatto la Serie A. È un giocatore di… non lo conosco direttamente, ma si vede che è un giocatore che trasmette professionalità. Chilo Bonds? Lobbond? Non lo conoscevo, adesso l'ho conosciuto. Posso dire anche che lo posso definire un amico. È una persona di alto livello. A parte l'aspetto calcistico, a parte l'aspetto strettamente tecnico, è una persona di alto livello. E' vero che hai avuto saluto in stafo domenastra? Ho sentito qualcosa. A me sarebbe piaciuto, perché è una persona che conosce il calcio, conosce la psicologia dei giocatori. E io una delle prime cose che ho chiesto, lo chiederei comunque anche se andassi a allenare in un altro paese, secondo me per un allenatore straniero è fondamentale avere nel proprio staff un giocatore, un assistente di quel paese, che sia di quel paese. Perché? Perché conosce i giocatori, conosce la mentalità dei giocatori, capisce alcune cose che un allenatore che arriva da un altro paese e quindi con altre mentalità non può sapere. C'è altre normali in fotballo mondiale, attuale, voplac? Ce ne sono, secondo me, che mi piacciono, ce ne sono. Bisogna stare attenti poi a non provare a copiarli, perché secondo me quello è un errore. Perché ognuno deve prendere magari degli spunti da alcuni allenatori, ma da tutti, non necessariamente da un allenatore di altissimo livello. A me piace anche andare quando è possibile a vedere allenamenti dei giovani e può darsi che si riesca a prendere spunto per qualcosa poi di interessante. È chiaro che adesso è un po' meno considerato, perché in questo momento i risultati non lo aiutano. Però Guardiola per un aspetto, Mourinho per la gestione, Klopp, ce ne sono tanti. Italiani, ad esempio, io apprezzo tantissimo Ancelotti, perché secondo me è un allenatore che a livello di gestione e di saper prendere tutto quello che è possibile dai suoi giocatori, è un allenatore, ho avuto la fortuna di conoscerlo, ci conosciamo, è un allenatore di grandissimo livello. Messi o Ronaldo? Tutte e due, se devo scegliere uno, Messi. Barca o Real? Questa è una bella domanda, non è semplice, però come stile di gioco mi sento più vicino, mi piace di più lo stile del Barcellona come mentalità Real Madrid. Crevo o crevo? Craiova. Catt' mai stai in Romania? Ah, fin quando mi tengo? Non lo so, io posso solo dire che mi trovo bene. Mi piace lavorare a Craiova perché comunque si possono sviluppare delle idee per un allenatore, quando si possono sviluppare delle idee, è una cosa più importante. Grazie mister, a fost o plàcere. Grazie a voi per l'invito. A fost un top interview cu antrenorul Craiovei, Davis Mangia, am avut ce să învățăm de la dumnealui pentru că a antrenat fotbalisti mari și acum speră să aducă din nou titlul Universității Craiova. Atât de la top interview-uri, la revedere! A fost un top interview cu antrenorul Craiovei, Davis Mangia, am avut ce să învățăm de la dumnealui pentru că a antrenorul Craiovei, Davis Mangia, am avut ce să învățăm de la dumnealui pentru că a antrenorul Craiovei. A fost un top interview cu antrenorul Craiovei, Davis Mangia, am avut ce să învățăm de la dumnealui pentru că a antrenorul Craiovei.